La crisi c'è, a tirarsi sulle maniche. Sicuramente il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori. Quando hai poco da investire in termini economici hai solo te stesso. Ora l'economia e le imprese italiane sono sempre più sotto pressione. La grave crisi internazionale condiziona tutto. Molte aziende rischiano la chiusura. Ognuno di noi si è dovuto inventare decimila modi diversi per risparmiare. La pubblicità che faccio è minima. Cartelli, cartelloni. Non posso permettermi di fare grandi pubblicità. Non sapevo più cosa inventarmi, mi sono fatto delle bustiere da zucchero da distribuire ai bar. Dacia, main sponsor dell'Ulinese Calcio, ha deciso di rimanere in panchina per tre giornate di campionato. Domani contro la Roma, l'Udinese avrà un nuovo sponsor. Una trovata pubblicitaria a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. Un modo di dare un piccolo contributo contro la crisi. La prima volta nella storia d'umanità. Cosa proprio indescrivibile. Non ci credo ancora, non riesco neanche a immaginarla. Più di un sogno inarrivabile. La prima volta nella storia d'umanità. E speriamo che questa vittoria porta anche una bella felicità a questo ragazzo di 26 anni. La vittoria la dediciamo a lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.